Un furto di fiori davanti a un negozio con tanto di telecamere che l'hanno immortalata. È successo domenica sera ai danni del negozio la sposa di Eugenia sulla statale Adriatica Fano. Una signora bionda sulla cinquantina con minigonna e felpa poco prima delle 21.30 è arrivata a bordo di un'auto station wagon. Si è diretta verso il locale, ha preso due piante di Di Pladegna posizionata di fronte all'ingresso e se ne è andata. Il mattino successivo poi è tornata alle 6.50 per finire il lavoro, rubare le altre due rimaste nelle fioriere. Abbiamo capito subito che avevamo numero di targa, foto della persona e via discorrendo. Quindi abbiamo pensato che cosa potevamo fare, eravamo un pochino in imbarazzo, abbiamo detto pensiamoci un attimo. Poi nella pausa pranzo invece ci siamo accorte che la signora ha portato via i nostri fiori in due tempi. Ci ha studiato, ci ha pensato molto bene a quello che stava facendo e ci siamo un po' arrabbiate. Anche perché è una bella signora, benestante. Quindi adesso è un gesto un pochino troppo forte, che ci ha lasciato un po' così, vero Roby? Le sorelle Ottaviani hanno deciso di sporgere denuncia ma la vicenda non si è conclusa lì perché questa mattina hanno ricevuto un'altra sorpresa davanti a una serranda del vicino. La sorpresa è stata carina perché io passavo con la macchina per portare mia figlia a scuola e ho visto passando qua con la coda dell'occhio delle buste nere con dei fiori che spuntavano. Ho detto sta a vedere e in effetti quando poi sono venuta in negozio queste buste contenevano i nostri fiori, contengono i nostri fiori con un bel cartello che è questo qua, mi scuso perdono. Per Lucianna e Roberta la signora evidentemente si è resa conto di essere stata scoperta e identificata anche grazie ai post pubblicati sul social network nei quali si raccontava l'accaduto. Oltre al fatto che pure alcuni residenti erano riusciti a scattare delle foto e cogliere la donna sul fatto. Ora, considerato il biglietto di scusa, le titolari stanno decidendo se ritirare la denuncia o se procedere comunque per vie legali. Temiamo che non sia stata la prima volta, hanno aggiunto in un post su Facebook, ma speriamo per lei che sia l'ultima perché potrebbe incontrare persone meno tolleranti di noi e finire nei guai. Non è che il fiore non è una cosa impegnativa da comprare, uno pensa più a un dispetto, però una signora che si avvicina ne prende uno da un vaso e uno dall'altro e il mattino dopo torna per finire l'opera e prendere le altre due rimaste, uno dice c'hai proprio pensato, l'hai studiata, è questo che ci lascia un po' basite, no? Per quattro fiori, costo di 15 euro a pianta, forse 20, adesso non ricordo quanto le abbiamo pagate, però è una cosa un po'... Certo, poi comunque in vetrina c'è il cartello locale sottoposto video e sorveglianza, quindi voglio dire... Ci ha lasciato un po' così, un po' basite, sinceramente. Non ci piace far del male, preferiamo dimenticare le cose sicuramente, però in questo caso ancora dobbiamo fare il nostro focus perché la cosa ci ha un po' sconcertate.